Una folla soprattutto composta da giovani studenti ha invaso il piazzale davanti alla regione Basilicata Potenza dove è stata organizzata la manifestazione promossa ogni anno dall'Associazione Libera in ricordo delle vittime di mafia. Quest'edizione dell'iniziativa si è arricchita con l'intitolazione di Piazza 21 Marzo a memoria della giornata nazionale organizzata dall'Associazione proprio nel capoluogo di regione all'indomani della scoperta del corpo di Elisa Claps nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità. Il documento della Direzione Nazionale Antimafia è molto esplicito da questo punto di vista sottolinea che in Basilicata c'è la possibilità di riorganizzazione anche di gruppi malavitosi locali in collegamento con la classica mafia organizzata delle regioni limitrofe c'è una situazione oggettivamente drammatica nel metapontino dove si susseguono attentati di varia natura una corruzione comunque presente come in tutta Italia, d'altra parte non siamo fuori dal contesto nazionale per cui nella corruzione è facile che la malavita organizzata trovi i suoi canali. Oltre agli studenti di diverse scuole non solo di Potenza tra i partecipanti alla giornata anche i parenti di alcune vittime della mafia. Un anno dal ritrovamento di Elisa si tenne per volontà di Don Luigi Ciotti e di Don Marcello proprio a Potenza la giornata nazionale per l'impegno e la memoria quindi ha un valore ancora più grande e quindi ecco perché siamo qui io e mia madre in rappresentanza ovviamente della mia famiglia. Ci è stata riconsegnata una verità parziale perché uno deve spiegarci come mai è stato possibile per 17 anni che i resti di Elisa fossero lì in quella chiesa e come mai nessuno l'abbia mai cercato proprio nell'ultimo posto in cui Elisa era stata avvistata e soprattutto dopo il ritrovamento che noi chiamiamo il teatrino purtroppo del 17 marzo ci sono ancora tantissimi aspetti da chiarire. Tra gli altri alcuni ragazzi extracomunitari dell'associazione Opti-Poba, ospiti a Potenza. Perché noi sappiamo com'è importante questa giornata, la giornata contro la mafia. La paura della mafia, allora per me è importante questa giornata così la gente ha ancora un po' di coraggio non si fa abbattere per questi fenomeni, allora sono felice di fare parte delle persone che sono qui oggi. Un filo della memoria che parte da Messina ed unisce idealmente mille luoghi d'Italia. nel ricordo delle 900 vittime innocenti delle mafie. Nomi e cognomi recitati in scuole, associazioni, università, fabbriche, parrocchie, carceri come quello di Annalisa Durante, morta per strada a Forcella il 27 marzo 2004 nel corso di un agguato al boss Salvatore Giuliano. Aveva solo 14 anni. A lei è stata simbolicamente intitolata Piazza Zecchettin di Villa d'Agri che ha partecipato con un'intensa manifestazione alla giornata promossa da Libera. In prima linea, a sfilare per le vie del centro valligiano, i ragazzi delle scuole locali a partire dagli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Marsico Vetere impegnati nei progetti legalità e inversione di rotta. Abbiamo cercato di fare avvicinare i ragazzi alla legalità e al territorio. Infatti sono previste delle visite sul territorio, incontri con le autorità del territorio, gli enti locali e ci sono previste delle visite anche a Roma, alla Camera dei Deputati e dei senatori il prossimo anno. Il mese prossimo, con la classe quinta della scuola primaria, andremo in Tribunale a Lago Negro dove effettueremo una simulazione di un processo penale. Come ogni anno, l'iniziativa di Libera cade all'inizio della primavera. Nei giorni in cui la natura torna a splendere in tutto il suo vigore, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti chiama i cittadini al risveglio delle coscienze. Un risveglio che passa dal ricordo di tutte le vittime innocenti ancora in attesa di giustizia, ma soprattutto dall'impegno costante contro corruzione e criminalità, passo indispensabile verso il cambiamento. Ecco dunque gli alberi diventare il simbolo della rinascita. Come rulivo, trapiantato in memoria di Ottavia De Luise, la bambina scomparsa a Montemurro il 12 maggio di 40 anni fa, o l'albero dei diritti, una pianta ormai secca rifiorita grazie alle decorazioni appese ai rami dai ragazzi delle scuole valdagrine. Per me questa giornata è stata importante soprattutto per noi giovani, perché dobbiamo riconoscere che è importante vivere nella legalità e questi nomi che abbiamo recitato e le persone che abbiamo ricordato ci devono far capire che noi siamo lo strumento per dare una svolta a tutto quello che è accaduto e non farlo continuare. Infatti come dice anche Don Marcello, noi siamo lo strumento della libertà e siamo noi per primi che dobbiamo ricordare queste cose per non ripeterle, perché il futuro lo faremo noi e lo passeremo ai nostri figli. La giornata si è conclusa con la lettura dei nomi di chi non c'è più, un modo per far rivivere i tanti fiori recisi, ma anche un monito contro l'indifferenza, che di tutte le mafie è sostanza vitale.